Il progetto di San Pellegrino Campus, SES Campus, è l'opportunità per San Pellegrino per affacciarci al mondo dell'università dei giovani e quindi per ricevere tutti quegli input e quegli suggerimenti che un'azienda come la nostra per in maniera competitiva ne ha bisogno. E' anche l'opportunità appunto di facilitare l'ingresso dei giovani all'interno di un'azienda tipo la nostra. Quello che stiamo facendo è quello di impegnarci di più in incontri come questi con le università quindi di ascoltare le università, ascoltare i professori, ascoltare i giovani ma anche noi presentare come è organizzata e strutturata un'azienda ma quello di dare anche l'opportunità ai giovani di cimentarsi in studi, in tesi finalizzate al nostro settore incentivandoli poi con borse di studio, con stage all'interno della nostra azienda e poi quello che abbiamo fatto quest'anno che è un progetto più complesso è quello di proprio portare in azienda 30 giovani per un periodo di 6 mesi e fargli fare proprio attività commerciale di vendita sul territorio. Per noi Expo è una grandissima opportunità, non solo opportunità come azienda, come marchio San Pellegrino ma come opportunità per il sistema Italia. Pensiamo che sia un'ottima vetrina per portare dei visitatori italiani e stranieri a vivere il meglio dell'Italia da un punto di vista di contenuti, da un punto di vista contenuti sia di prodotto, sia contenuti sociali, contenuti di sostenibilità. Quello che faremo noi come San Pellegrino è quello appunto essendo presenti sia come Expo Partner e come Partner anche di Padiglione Italia, di lavorare su varie tematiche che sono importanti per noi che sono quelle sicuramente della sostenibilità, sostenibilità d'azienda, sostenibilità anche ambientale quindi parlare dei nostri sorgenti, di come ci prendiamo cura del territorio per poi parlare anche di contenuti salutistici, di funzionalità e di dilatazione e poi chiaramente per quello che è un po' il posizionamento di San Pellegrino che è tutto il mondo dell'alternativa di gastronomia e quindi del mercato alimentare italiano nel mondo e poi appunto rappresentando quello che noi siamo, che siamo un ambasciatore del meglio dell'Italia e dell'Italian lifestyle in giro per il mondo.